Un cordiale saluto da Andrea Fagioli e da Riccardo Bisi. Ben trovati all'appuntamento con Toscana oggi, fra l'altro ultimo appuntamento prima della sospensione estiva, ma lo ricorderemo in chiusura. Intanto andiamo invece proprio in apertura di prima pagina. Questa settimana il Sinodo dei Giovani ovviamente è il grande tema nell'agosto che sta per arrivare. Giovani in cammino verso Roma, si legge nella prima pagina, ma prima a livello regionale c'è il raduno a Pistoia. Questo dunque è l'argomento principale questa settimana su Toscana. Oggi poi in prima pagina sono richiamati anche delle cose all'interno e in particolare, lo segnaliamo, ma poi ci ritorneremo, un inserto che è dedicato al viaggio nella Toscana del Sacro. Ma parliamo dei giovani, giovani che si mettono in cammino. Ci sarà infatti l'11 di agosto la veglia a Roma con Papa Francesco che ha invitato tutti i giovani italiani a pregare con lui proprio in vista, in preparazione del Sinodo sui giovani, con i giovani, che ci sarà in ottobre. In preparazione a questo appuntamento a Roma, la CEI ha chiesto alle diocesi italiane di organizzare dei veri e propri cammini sul territorio proprio per arrivare a Roma anche con la sensazione fisica del pellegrinaggio. Le diocesi toscane si sono organizzate in questo senso con vari percorsi, alcuni più lunghi, altri più brevi, ma sempre con tappe legate ai luoghi significativi della fede sul territorio toscano, quindi santuari, monasteri, antiche piedi, ma anche luoghi di servizio, di carità, come i giovani della diocese di Firenze, ad esempio che dopo aver percorso varie strade del territorio diocesano si fermeranno a Firenze anche per fare esperienze di servizio portando i pasti caldi ai poveri, ai senza tetto, alla stazione durante la sera oppure andando a seguire anche la ronda notturna con l'associazione Giovanni XXIII per le ragazze di strada. Questi appunto alcuni degli impegni che li vedranno protagonisti. Anche le altre diocesi appunto sono impegnate in vari percorsi. Per diverse diocesi toscane ci sarà poi anche un punto di ritrovo comune a Pistoia la sera del 10 di agosto. I giovani, circa 400 giovani toscani, si ritroveranno lì per una giornata dedicata ai luoghi di pellegrinaggio di Pistoia. Pistoia è una città legata in particolare a San Giacomo, di cui ci sono delle reliquie in città. E poi la sera un concerto con un gruppo di Christian Rock, quindi musica ma anche messaggio cristiano dal palco di Pistoia. Poi il giorno dopo appunto tutti insieme raggiungeranno, convergeranno sul Roma dove la sera ci sarà la veglia col Papa. Questo dei giovani dunque è un tema che poi ritroveremo anche nelle pagine locali di Toscana oggi. Adesso spostiamoci rapidamente nelle pagine di Regione, leggiamo alcune informazioni. Tra l'altro c'è un'iniziativa piuttosto interessante che riguarda il problema annoso, questo che coinvolge un po' tutte le Regioni, quello delle liste di attesa per gli esami clinici, per gli esami medici. C'è un accordo tra la Regione e il Sindacato per poter fare tac e risonanze fino a mezzanotte. Quindi questo è un sistema in qualche modo per poter abbattere le liste di attesa e quindi poter fare esami medici anche in orario extra-orario. In qualche modo quindi iniziativa importante. Questa segnaliamo ancora tra le iniziative segnalate nelle nostre pagine regionali anche una casa, una casa particolare che nasce a Calci, siamo nel territorio di Pisa, anche in diocesi di Pisa, la casa che si chiama Misericordia Tua ed è una casa di accoglienza per detenuti. Il nome riprende il motto episcopale di Monsignor Alessandro Plotti, che come si ricorderà è stato arcivescovo appunto di Pisa. Da guidarla questa struttura sarà Vittorio Cerri che per 17 anni è stato direttore del carcere Pisano Don Bosco, quindi anche una esperienza notevole in proposito. Andiamo a Ecclesi alla parte di informazione religiosa di Toscana Oggi. La lettera di questa settimana, la rubrica risponde il teologo, la lettera riguarda il tema dell'aborto. In particolare abbiamo sentito nei giorni scorsi le parole molto forti di Papa Francesco contro il cosiddetto aborto selettivo, richiamando addirittura le pratiche naziste in questo senso. Il nostro lettore chiede se però ci siano altre forme di aborto, il cosiddetto aborto terapeutico, quello che è consentito anche dalla legge italiana, se ci sono forme di aborto dunque che la Chiesa può in certi casi ammettere. Padre Maurizio Faggioni che è docente di teologia morale ma anche medico, risponde in maniera molto dettagliata spiegando ovviamente che la Chiesa non ammette nessuna forma di aborto, considera sempre l'aborto come l'uccisione di una forma di vita, di un essere umano, ma distingue appunto anche da medico i vari casi, le varie situazioni che possono accadere che riguardano magari la salute della madre o la salute stessa del feto. E poi nelle pagine di informazione religiosa, siccome questo come dicevamo è l'ultimo numero di Toscano oggi, prima della pausa che faremo nel mese di agosto, ci sono quindi tutte le meditazioni per le domeniche di agosto, ai commenti, alle letture, ai brani del Vangelo delle domeniche di agosto e anche della festa del 15 d'agosto, la festa dell'assunta, dell'assunzione di Maria, quindi un'occasione per accompagnare questo tempo di riposo anche con la lettura e la riflessione a partire dal Vangelo. Dunque questo per quanto riguarda l'informazione religiosa, le nostre pagine di ecclesi, alle quali come sempre seguono le pagine di inventario, ovvero sia quelle di informazione culturale. In apertura questa settimana è la recensione dello spettacolo teatrale ospitato a San Mignato in occasione della tradizionale festa del teatro organizzata dall'Istituto del Dramma Popolare. Come tutti gli anni nella storica piazza del Duomo di San Mignato c'è stata una rappresentazione che ha per tema sempre argomenti di carattere spirituale, comunque di riflessione profonda. Questa volta lo spettacolo scelto per questa 72esima edizione della festa del teatro è stata la Masseria delle Allodole, che è un romanzo che è stato adattato per il teatro, che racconta il genocidio degli armeni. In qualche modo è una rilettura, ovviamente in chiave teatrale, anche modernizzata per certi versi, di questo genocidio che si svolse nel 1915 nell'impero ottomanno, quindi quando la Turchia, governata dai cosiddetti giovani turchi, tentò di annientare proprio gli armeni. Quindi questo è lo spettacolo quest'anno in programma a San Mignato. Poi ancora, per quanto riguarda le altre pagine di inventario, segnaliamo un racconto, un racconto estivo a firma di Franco Cardini, che è un noto storico, ma che è anche un valido scrittore che a volte si diletta appunto anche nella narrativa. E nel questo caso il racconto di Franco Cardini è dedicato ad una zona particolare di Firenze, il cosiddetto Oltrarno, la zona di San Frediano, Santo Spirito, e quello che ci racconta è il sogno cinematografico di una notte di mezza estate, ovvero quando i protagonisti erano anche i cinema e l'andare al cinema in qualche modo faceva sognare. Dunque questo per quanto riguarda le pagine di inventario, abbiamo già detto e lo ricordiamo prima di passare alle edizioni locali, che in questo numero c'è anche un inserto di ben otto pagine che è dedicato a dei percorsi attraverso tutta la Toscana, dei percorsi, dei ditinerari attraverso monasteri, cattedrali e abbazie storiche. Quindi un'iniziativa particolarmente interessante, una serie di suggerimenti molto validi per chi voglia vivere in qualche modo una vacanza all'interno della Toscana del Sacro, che da questo punto di vista è estremamente ricca. Ricordiamo un inserto che abbiamo realizzato in collaborazione con un'associazione che si prende cura di questi luoghi, che è l'Istituto per la Valorizzazione delle Abbazie Storiche della Toscana, una rete che coinvolge ormai una sessantina tra comuni, diocesi e ordini religiosi e grazie alle indicazioni anche di questa associazione che cura in maniera particolare questi luoghi diffusi sul territorio toscano. Questo speciale offre non solo i luoghi più conosciuti, pensiamo a Camaldoli o al Convento della Verna, a Sant'Antimo, alle grandi abbazie, ai grandi monasteri più noti, più conosciuti, ma anche a luoghi magari ormai disabitati, ormai ridotti a rovine, ma che può essere molto interessante comunque conoscere o visitare. Pensiamo a quello di Monte Follonico, ad esempio, nel comune di Tornita di Siena, che nella campagna senese offre la possibilità di riscoprire memorie antiche che comunque segnano il territorio, il paesaggio toscano. E partiamo da Arezzo per scorrere rapidamente a questo punto le 15 edizioni di Toscana Lodge. Su Arezzo, Cortona, Sansepolcro, la voce, la calda estate del sinodo verso la congregazione generale. Si parla ovviamente del sinodo diocesano, il sinodo che la diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro sta portando avanti. Ormai da mesi sono finiti i lavori dei cosiddetti circoli maggiori che hanno fatto sintesi di tutto quello che è emerso dalle discussioni di questi mesi e ci si prepara adesso verso la grande assemblea diocesana di settembre. Un titolo sulla prima pagina della parola di Fiesole, settimana teologica ed educarci a saper educare. Si parla dell'appuntamento che caratterizzerà la ripresa dell'anno pastorale della diocesi di Fiesole dal 3 al 7 settembre, questo primo appuntamento che prende spunto dai nuovi orientamenti pastorali per la diocesi. Sull'osservatore toscano, notiziario della diocesi di Firenze, anche qui si parla non di sinodo ma di cammino sinodale diocesano, così è stato chiamato questo percorso, che riprenderà anche questo a settembre con le assemblee di zona. Questo è l'appuntamento che aspetta la diocesi. In apertura invece si parla di un'esperienza particolare della diocesi di Firenze, che è il gruppo Elba, un gruppo ormai molto numeroso che dalla zona di Bagnarripoli coinvolge non solo la parrocchia ma anche tanti giovani, tanti studenti che dedicano una parte del loro tempo, delle loro vacanze estive per accompagnare disabili in una casa, in una grande struttura che questa associazione gestisce all'isola d'Elba. Andiamo sulla prima pagina di rinnovamento, siamo in diocesi di Grosseto e anche qui c'è grande attesa per la festa del patrono San Lorenzo che si celebra appunto in agosto. Su Luca 7 si parla di Monsignor Torrini, erano come figli, si intitola così la lettura scenica che racconta la figura di questo prete lucchese che fu fucilato dai nazisti il 4 agosto del 44, parliamo di Donaldo Mei. Dalla Maremma all'Elba, diocesi di Massa Marittima Piombino, qui si parla del carcere di San Giacomo che è a Porto Azzurro ma non tanto per questioni appunto legate al carcere stesso quanto al restauro praticamente della chiesa che è all'interno della struttura carceraria all'interno del forte di San Giacomo, dopo 4 anni tornano 3 quadri che sono del 6-700 provenienti appunto dalla casa di reclusione di Porto Azzurro. Potrebbero anche poi riessere collocati nella stessa chiesa se si darà il via ad ulteriori restauri. Su Vita Nova, edizione della diocesi di Pisa, ritroviamo la notizia che abbiamo visto anche nella parte regionale del settimanale, l'inaugurazione della casa Misericordia Tua. In autunno arriveranno i primi ospiti, sono due detenuti in semi libertà, quindi una casa appunto destinata ad accogliere carcerati o ex carcerati per aiutare il reinserimento nella società e nel lavoro. Ancora avanti tra le nostre edizioni, siamo sulla prima pagina di confronto ovvero sia diocesi di Pitigliano Sovana Orbetello, si parla del 14 agosto quando ci sarà un'ordinazione diaconale nel Duomo di Orbetello, una vocazione a lungo coltivata, questo è il titolo, che riguarda appunto Francesco Girelli che come dicevamo sarà ordinato diacono. Sull'eraldo poliziano, diocesi di Montepulciano, Chiusi e Pienza, ritroviamo i cammini dei giovani, si parla qui in particolare dei giovani appunto della diocesi di Montepulciano, Chiusi e Pienza in pellegrinaggio sulle orme dei nostri Santi, questo è il percorso appunto che i giovani faranno in vista poi di raggiungere Roma la veglia con Papa Francesco. Questa settimana la Voce di Prato è dedicata a tante iniziative che riguardano l'agosto, ma è dedicata anche ad un'ampia intervista al Vescovo Franco Agostinelli. torniamo a evangelizzare, questo è il suo appello. Poi tante altre cose da segnalare, fra l'altro questa è importante per la festa dell'8 settembre che è una festa dedicata alla Madonna, importantissima per la diocesi di Prato che nella propria cattedrale conserva la sacra reliquia della sacra cintola. Ebbene l'8 settembre per questa importante celebrazione sarà presente a Prato il Cardinale Guardiero Bassetti che è Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Sulla domenica a diocesi di San Mignato ritroviamo la Masseria delle Allodole, lo spettacolo di cui dicevamo prima che ha segnato quest'anno l'edizione del Festival del Drama Popolare di San Mignato. E poi la segnalazione dell'avvio dell'adorazione eucaristica perpetua, siamo nella Cappella dell'Oasi a Capanne in provincia di Pisa ma la diocesi appunto è quella di San Mignato. E siamo così a Siena, Siena, Colle, Valdezza, Montalcino, si parla di un santo particolare, San Cutberto che unisce cattolici e anglicani, si parla di una preghiera comunitaria nella chiesa di San Peter. La voce di Valdinievo, le diocesi di Pescia, si parla dei campeggi estivi della parrocchia di Massarella, campeggi estivi a Vada sulla costa toscana, dunque poco sotto Livorno. L'avventura del campeggio estivo è iniziata addirittura nel 1962, una tradizione dunque che vede tutti gli anni nel periodo estivo gruppi di ragazzi che si ritrovano entusiasti di questa esperienza insieme. E siamo sulla prima pagina di Vita Poana, quindi diocesi di Massa Carrara Pontremoli, qui in apertura troviamo un argomento dedicato all'azione cattolica, a rivoluzionare la pastorale, questa è l'idea che viene da un percorso di formazione pastorale che è appunto previsto da parte dell'azione cattolica e si dice, qui si annuncia una settimana a metà agosto dedicata appunto a questi temi dell'attività ecclesiale alla quale parteciperanno i responsabili, i soci e poi i laici, presbiteri e religiosi. Sarà presente per condurre, per guidare questa riflessione Monsignor Domenico Sigalini. Sull'araldo diocesi di Volterra si parla della festa dell'Assunta, come viene chiamata in Toscana, l'assunzione di Maria del 15 agosto, la festa della Madonna Assunta, particolarmente sentita a Volterra perché proprio a Maria Santissima Assunta in cielo è dedicata la cattedrale di Volterra, la dedicazione risale al 1120, quindi fra poco ci sarà il nono centenario di questa dedicazione e in vista di questo appuntamento la diocesi riflette sulla devozione mariana, molto forte, molto sentita sul territorio, ci sono appunto percorsi di devozione mariana attraverso il territorio diocesano che sono affidati oggi alla Chiesa di Volterra come patrimonio di fede da trasmettere alle generazioni future. E dunque, come abbiamo ripetuto più volte nel corso di questa nostra rassegna stampa di Toscana oggi, questo è l'ultimo numero prima della sospensione estiva, per cui l'appuntamento con tutti voi che ci seguite sarà per la fine di agosto, ovviamente rimarrà sempre attivo per tutto il mese, aggiornato quotidianamente, 7 giorni su 7, il nostro sito internet www.toscanaoggi.it quindi anche per seguire, se vorrete, anche i vari percorsi, i vari prelegrinaggi dei giovani che come abbiamo visto caratterizzeranno da un punto di vista ecclesiale il mese di agosto. è l'occasione giusta quindi per augurare a chi potrà farle, perché ovviamente non tutti poi riescono a fare un periodo di riposo, però per chi può ovviamente auguriamo buone vacanze, appuntamento, ripeto, a fine agosto e ancora a tutti un grazie per l'attenzione. Grazie per la visione!